Ciao a tutti, bentornati nello spazio Pillole Anni 92.000, oggi per lo spazio dedicato alle discoteche e per legarci al video sulla storia e evoluzione della musica Artstyle, vi parlerò della storia della discoteca Shock. E allora siete pronti? Vai con le Pillole Anni 92.000 di oggi! La discoteca Shock che è stata appunto di riferimento della musica Artstyle in Italia per più di un decennio, il motto principale era Shock sotto Shock, una vita sotto Shock, che appunto ha risuonato in quelle quattro mura per più di un decennio, anche se poi è stato copiato da altri vocalist in altre discoteche, ma ovviamente partiva assolutamente dallo Shock. Tra i vocalist appunto ricordiamo soprattutto Mad Bob e Ivan Talco, Mad Bob che arrivava ovviamente dal Duple e però per diverso tempo è stato anche vocalist dello Shock. E poi tra i DJ invece ricordiamo i resident Bruno Power, Francesco Zeta e Pitta, invece tra gli ospiti ricordiamo i vari Tecnoboy, Tune Boy e poi anche DJ Isaac, c'è stato anche Zenith DJ e poi Mazza e Martinelli per esempio da M2O che ricordiamo con il loro programma 0DB pubblicizzavano l'Hartstyle e anche appunto le serate alla discoteca Shock. La discoteca poi chiuse inizialmente nel 2008, quindi per un po' era stata sospesa la licenza eccetera, poi riprende a fare le serate vari eventi chiamati appunto Shock o Sotto Shock per ricordare così la storica discoteca. Quindi adesso vi leggerò proprio un trafiletto preso da un blog di una persona che partecipava tutti i sabati alle serate dello Shock e appunto vi leggerò così le emozioni che si trovavano alla discoteca Shock. Come discoteca Artstyle penso sia la migliore, lo Shock non lo batte nessuno, c'è tutti i sabati e poi non per dire ma come resident abbiamo Bruno Power che ce lo invidiano tutti e Raff & Joy che secondo me è il migliore. E come ospiti quest'anno non ci possiamo proprio lamentare, solo che la gente ovviamente fa schifo e anziché giudicare personalmente parla con le parole degli altri e va in giro a dire che ci sono soltanto delinquenti e accoltellamenti tutte le sere. Ricordiamo appunto quell'evento, quello che era successo con l'accoltellamento proprio nel 2008, questo trafiletto è preso proprio, è stato scritto nel 2008 e quindi da lì ovviamente la gente ha cominciato con i luoghi comuni, anche se già c'erano negli anni precedenti, ma da quel momento in poi è stato veramente un massacro verso quella discoteca e non solo, come vi ho raccontato altre volte per altre discoteche. E poi chiude dicendo qua faccio come Ivan, ovviamente il vocalist Ivan Talco, un bel dito medio dedicato a tutti coloro che ci odiano e che non ci credevano saremmo arrivati fino a qua, sotto Shock Forever. Allora adesso proprio a proposito di 2008 e a proposito di serate allo Shock del 2008, vi faccio vedere proprio un spezzone di un video tratto da una serata allo Shock nel 2008, per l'esattezza Carnevale del 2008. Andiamo a vederlo. Il mondo lo faremo noi e tu lo sai, noi vinceremo noi e tu lo sai. Noi vinceremo noi e tu lo sai, quel gioco torneremo noi e tu vedrai, il mondo lo faremo noi e tu lo sai. Noi vinceremo noi e tu vedrai, il mondo lo sai. Invece molti sono stati gli eventi negli ultimi anni dedicati allo Shock o comunque eventi targati Shock o Sotto Shock e tra gli altri ricordiamo questo del 2016. Noi vinceremo noi e tu vedrai, il mondo lo sai. Livin' for the moment insomma quindi questa era la discoteca shock se vi è piaciuto questo video mettete mi piace se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale vi ricordo che se avete degli approfondimenti dei correttivi fatemelo sapere nei commenti vi dirò in un prossimo video oppure se ne volete parlare in prima persona di questa discoteca o di altre discoteche di cui ho parlato fatemelo sapere nei commenti organizziamo una call e sarete voi in prima persona a parlare appunto delle discoteche voi che ovviamente le avete proprio vissuti in prima persona e potete descrivere e raccontare le emozioni che si provavano. Ci vediamo venerdì con il DJ Piazza in The Mix dedicato proprio alla musica art style dell'anno 2002 alla prossima!